Però ragazzi vi faccio una promessa, se questo video supererà i 50.000 mi piace Ambra farà lo bombi o lo passi Ciao ragazzi, domani alle 14 mettetevi la sveglia perché iniziamo finalmente la serie su Days Gone E sabato 27 ci vediamo a Roma al centro commerciale Anagnina da Euronics dalle 16 alle 18 Venite in tantissimi ragazzi perché vi aspetto tutti e soprattutto è tutto gratis Salve a tutti ragazzi e bentornati a Meshosha, sono con la mia ragazza moglie Ambra Moglie, ciao! Più di un anno fa abbiamo fatto questo stesso video dove facevamo un draft dove Ambra sceglieva i più belli Video che non aveva mai fatto nessuno Sì, io vi avevo promesso che avrei fatto lo stesso video però dove io sceglievo le fashion blogger E fallo No, non tu fai, è passato un anno, me lo so dimenticato Quindi ragazzi siamo tornati a farlo in questo video appunto Ambra sceglierà i più belli, sei pronta? Ma mi devi mena Non ho capito che so fortissimo Eh Però così è a sto livello Però ragazzi vi faccio una promessa, se questo video supererà i 50.000 mi piace Ambra farà lo bombi o lo passi Oh, finalmente Allora, devi sapere ragazzi C'è due anni che sto a chiedere di fare questo video Perché io voglio farlo, voglio farlo anch'io Voglio vedere qualcuno e dire lo bombo, lo bombo, lo passo Ma voglio farlo pure io, scusa, l'hanno fatto tutti All'altro giorno ragazzi si è visto il video del Murillo ha detto Perché non lo faccio pure io, perché non me lo fai pure a me Se vorranno, lo farai Sì, grazie, fatemelo fare E poi però, però ragazzi 100.000 mi piace faccio io la bomba e lo passi Sì, però me li mette persone interessanti, eh Ah, ma ti ricordi come funziona? Facciamo un draft e tu sceglierai quelli più belli Ma là esce tutta gente brutta nei draft Ma brutta da che è che ti piace Marchisio? Oh, regà, leggende narano che Ambra piace Marchisio Non è vero Sempre non è vero, non è vero Però ogni volta te lo dici diventa rossa Vai No, non è vero Sta così, regà Ti piace Marchisio? No, vai Dai, fallo Ti piace Neuer? Chi è 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 Neuer? È il portiere della Germania No Sì, no No, guarda, guarda Chi è piace Non è vero Io conosco i miei polli Quello lo odio Sì, lo odia, lo odia Pure a me mi odiava Infatti, ha visto, regà Allora, il modulo come al solito Me lo scelgo da solo, ok? Eh, Laset, te la usano interroganti Ma che vuoi scegliere? Il modulo, quale ti piace il più bello tra i moduli? Sì, è vero Sei pronta? Vai Devo scegliere il capitano, eh Quindi, sperando un tanto che ci escano buoni, eh, ragazzi Tra questi cinque devo scegliere il capitano? Madò No, regà, ma che è? Eh, dai, ma questa è la fiera dei brutti A parte la fiera dei brutti, pure il fiera dei scarti Ma Raoul Albion è greco, per caso? Chi? Raoul Albion Sì, Albion Ok Non c'è manco la N Ah, il viol Eh, è il viol Può essere greco, mi? Ci stanno le bandiere che ti dicono la nazionalità Oh, regà, ma che Lukaku è francese? C'è la bandiera Ti giuro, io Regà, brutti Non vorrei essere Francesco ce la faccia storta Che gli è penne da una parte E va bene Ok Quello non è proprio il mio tipo Buonasone così Un po' Ma quello chi? Dice i nomi Falcao Quello Fai, Falcao Falcao Ok, Raoul Albion mi pare greco Mi pare uscito dal film e 300 Eh no Kanté non è il mio tipo No? Non ti piace la cioccolata? Mi piace la cioccolata? Lukaku Minchia Ah, Kanté no, Lukaku sì Falca tu e Lukaku Ti sei nevelo solitetti Stavate nemmeno Lukaku Quindi a sto punto Tra tutti e cinque Raoul Albion Albion Dai Ma scusate regali Ma sono brutti Capitano, capitano Raoul Albion 84 Forse Tom lo mette Kanté Sì Kanté Che so, mi dici i più belli Ah, i più belli Che è il brello questo Dai Vabbè Scegli tu un ruolo Dai Allora, quello è l'attaccante Dai L'attaccante ATT Sì Ananzi no, il port Il port? Magari c'è Scenoia Ok, vai No, è un pippone Te lo dico subito Dai regà Ma chi è? Oh, c'è uno che si chiama Bonu Bonu Così scuri Non mi piacciono Quindi Bonu E scuri Faceo Pure questo c'è la faccia Che gli pende Faceo Ma mi non sai regge oggi Ma che c'ha Tata Rusanu Tata Rusanu sì Ma faceco no Tata Rusanu mi pare sardo Tata Rusanu sono Tata Rusanu Ma soprattutto Secondo voi Quella è una foto Da utilizzare Per un gioco così E non lo so Scura Con l'ombra sulla vista Con l'ombra sulla vista No E la IEI non è capace Manca a fare le foto Manca a fare foto Marcesin A me Marcesin Ma non sai regge Ma che sta succedendo Te manca Richard Te manca Becna Quando è Django Colungu Qualcosa regà Mi sto sentivando Dio è Django Colungu E lo so io Vabbè Saliamo Il giocherino Però ste cose Vabbè Comunque Io che ne so Quello non l'ho mai visto Vedo l'accento E penso che Il nome sia un pro Tipo francese Quindi Ma se c'è la bandiera Argentina E che ne so Come si dice in argentino Marcesin Marcesin Come si legge Vabbè Marcesin Comunque scelgo trap Eh lo sapevo Scegli più trap Che è più sul mio genere Sul tuo genere Oh bui sta forte Mincettenta Madonna Ma che schifo di trap Ma che schifo di trap Cioè vogliamo parlare De Giorginio Là Come si chiama Eh Giorginio Via Non mi piace Per Eio Ti ho detto già Per Eio Ti giuro Oh Ma ci fanno un video Solamente Pareco Ah Pareco Pereio Ma tu proprio Tu proprio Scambi le parole Allora ragazzi Ma io C'ho una leggera dislessia Secondo voi Davanti a queste cose Quindi si chiama Pareco Che ne so Che la Gese La Gc Comunque Pareco Ti ho già detto Che non è il mio tipo Via Poi Ma tutti i calciatori Così brutti Ma chi è Verratti Ma chi è Verratti Che è Cimocica Cimocica Oddio Pescara Allora Verratti Diciamo che c'ha un bel taglio Degli occhi Cioè Un bel colore Modesco È assomiglia a Marchisio No Però Regà C'ha la faccia A uovo O forse la foto Lo sai che sembra Giordana D'amici Ma che cosa È uguale Vai Verratti Dai Verratti No però forse Saúl Saúl o Verratti Il Aramendi Ma che cazzo Saúl o Verratti Gli Aramendi Vabbè Sapto di uomo Dai No però sembra Un po' psicopatico Dai Verratti Verratti Perché è italiano Dai Però Verratti è alto 1 metro e 65 È un po' basso per me Vabbè fa niente Una botte piccola C'è il vino buono Vabbè Ceviamo Verratti Dai Poi adesso voglio un TD Stashing draft Raga Mamma mia Dai questo dovrebbe essere buono Oh Cioè Raga ma scusate Io da quella foto là Come si chiama quello Joan Casello Joan Fa Se può vedere Se può guardare Quindi mi rimane Il primo Che secondo voi Una foto dove se sta orrata Io da lì come posso capire Se è bello Staffa Hulk Oh mi Quale le piace più di questi Trappi Charlie Nessuno Eh vabbè uno Quindi siccome non mi piace nessuno A questo punto prendo uno Che mi sembra forte E scelgo Alexander No mi Dei scegli I più belli Alexander Arnold Ok Madonna Mi Ma dove fa scegliere i più belli Se potevi scegliere i più brutti E' un fatto uno squadrone Ma brutta Guarda questo Guarda Mavi Ma che Guardate ragazzi Su questa scuola cosa è difficile Allora partiamo da Van Anolt Van Anolt Come si chiama Cioè ma posso scegliere uno Con quei capelli Questo proprio Eviterei Amavi Non lo commenterai E vai con Roussillon Cantè non era il suo tipo Però Roussillon No non è il mio tipo nemmeno lui Ma guarda quell'altri Ok ragazzi Stiamo per Acchittare una scuola Veramente Adesso il cicci di là Oh però regà Ma che draft Stasci Dai oh ma che schifo Ma che famone in alto Questi stasci Allora Coc Questo qua però magari Dal cognome Ah no No regà Guardate Trebel Allora adesso Scelgo Coc Ok Big Monster Vai Oh guarda che lignetta Che lignetta verde Ambra Forza Dai cerco io A Tittiri Regà Non possono uscire Dai Non devono cominciare a uscire Quelli forti Forza Alternate Luque Ecco eh Allora Lukaku E Luquishu Williams Mi dispiace Non sei il mio tipo No Giovanna che No sta canando la canzone Senza te un basso sta Peccato Ma appartiene E come piace Tu Eh Sapete voi Quella sarà Napoli Vabbè dai Questo è semplice Dai Icardi Pure se non mi piace Icardi La S Guarda C'è Cristiano Ronaldo Ma che cazzo Oh regà Ma oh ma No l'ho scelto io Orrore Ma poi chi mi hai scelto Sembra quello dei Jonas Brothers Eh mi sono sbagliato Però stai fermo È colpa dello Scaf Gaming Regà Dai ragazzi C'è ma guardate Bernardo Silva E quell'altro Sala Cioè Sono scegliibili Quei due Sono l'altri Quei due Che gli anni So Gli anni 80 90 Oh George Best È uno dei Bellissimi Sì ma non mi piace Dai Dai mappè Ma che Donatello Lo chiamano Perché assomiglia Una tartaruga ninja Ma aspetta ma guarda George Ma lo vede bene George Best Ma che dove Vede da sta foto Ma dai da sta foto No ma George Best Dai era uno Bello Dai Io non te voglio condizionare Però Sono andavo con Mi smondo Ok mappè Chi è mappè Si chiama un bappè Spiego È bello nel nome Dai figo Va bene per Michelangelo Donatello Come lo chiamano Quello Regà sta scoprendo cose Della mia signora Che non conosce Però attenzione Guarda qua Allora aspetta Io voglio dire una cosa Adesso tu sei uomo Adesso Sempre stato In realtà Sono usciti Tutti i calciatori Più brutti Del campionato Ma più che altro Più scarsi Più scarsi Eppure brutti Eh beh Regà ma dai Qua c'hai scelte Limitate Dai Va bene Mascherano quel lato Perché c'ha quella Ma boh non lo so Forse è radioattivo È stata una centrale nucleare Madonna Lukaku Il fratello Mi ho beccato No Lukaku non mi piace Ma questo è il fratello Vabbè Piqué Così Sì Ma scusa Non gli vai da uno Uno sguardo Ma pure Walker C'ha un bel sorriso Continuiamo con quest'altro Ragazzi Perché avevamo finito lo spazio Piqué che si lecca le dita Piqué sarebbe il marito Di Shakira Poi ci assomiglia un po' Shakira What up What up And I want you to be together I'm going to be Raga se prendete un coltello E fate così Potete tagliare il cringe Ma dai Mo ce te non usci quelli fuori Oh viera Dai regà Ma chi è sta gente brutta Tavenna era quello che cantava Napoletana Volker era quello di prima Azar non l'hai visto Ma Volker non c'ha un bel sorriso Allora C'ha un po' una frappa Tavenna Ma prima non ti piaceva Che cantava Napoletana Vabbè ma stava così Ma non mi piace nessuno Questi che sono scimmie Ma magari vi era te piace no No non mi piace Manca sad No non mi piace Dai regà Cioè io voglio dire Ma guardate di Maria E perché quell'altro Manzugic La come si chiama Carvacal Si carvacal Erbia call Mastro linda Carvacavallo Come si chiama Carvacal Carvacal Vabbè dai Lo mettiamo qua Guarda Guarda carvacal Che lo metto qua Oh si Oh si Donna mia Te sa di male Che vado male Ti so cessi Ma guarda Maglio Ma chi è Danilo Ma li mortasci Tu non sei brutto Verdi Verdi Ma verdi C'hai taglietti Su le sopracciglia Ma al palacavicchi Lo incontri Verdi Madonna regà Ce ne stasci Ne uno bello Ne uno forte Oh Eh ma non mi piace E mo se non lo scegli Mo se non lo scegli Guarda Guarda Sono indecisa Tra lato E Zappacosta Si dai Te lo volevo vedere Beh in questa foto Non è bello Cristiano Ronaldo E comunque Ammetto anche Dai mi C'ha quella venna Porco tu C'ha quella venna Che è più bella Del sorriso Del Zappacosta Se la cita a te Non è detto Che devi cita Sì Non ho tanto Sì Vabbè cita eh Sì Federica è andata A incontrare Thor Ovvero Chris Hesworth Lui mi ha detto C'ha il collo Troppo lungo Oh ma Chris Hesworth Regà È largo così Con collo De due metri Cioè Pare uno stupido Se chiami il full Gli dai una pizza Perché è perfetto Ovviamente Lo invidio Vabbè Cristiano Ronaldo No aspetta No ho scelto No ma io di questa cosa No fammela dire Cristiano Ronaldo C'ha un collo Che è una quaresima Lui va bene A lui è bella La vena A te te eccita Allora Mi fa venire durello Allora Allora Thor Non vedo carte di Thor Su FIFA Questa Cristiano Ronaldo 98 C'ha 98 di tiro 94 di velocità 95 di dribbling Sì ma c'ha il collo Su C'ha il collo lungo E io Posso dirvi questa cosa Vai dilla Sta stranzata A me non mi piace Cristiano Ronaldo Ma a me Però mi dico Ma guarda che zozzi Schifo Tanto ti dico io Chi sceglie Anzi Non ve lo dico Ve lo dico alla fine Vai Prozovic no Di niente Lo sapevo Guarda l'avevo selezionato Quello selezionato Si assomiglia Ma che mi assomiglia Ma che mi assomiglia Che sta a dire Sono già veri su Che è Allora qua vi dico subito Tra chi sono indecisa Così consigli Mi sembrava Stormy Così la facciamo breve Vai Tra De Gea De Gea E Loris E Loris Che poi tra l'altro Se vi rivedete il video Dell'anno scorso C'era sempre De Gea E c'era sempre Lloris No però oggi Mi sa che l'avevi scelto L'altra volta Lloris Scegli De Gea Dai Mimmo Ovviamente Lloris Francese Allora mi In ogni caso Sbagli Perché una in francese E l'altra in spagnolo E' brutto Eh ma io dico Lloris Che non si fa il bidet Dai De Gea Dai De Gea Difensori Mi c'è Ma giusti i difensori Ci potrebbe Marcello Marcello non mi piace Oh regà Questi sono tutti brutti Robert son prendi Si Florenzi Florenzi C'è sulla fiducia Chiamo dai ambra Claudio Marchisio Dai Vabbè dai Ci sta qualche bocconcino Guarda Rudy Madonna Rudy Zerbi Tra un paio d'anni Vado ultimo Io te prego Speriamo qualcuno Che devo aprire gli occhi Devono essere tutti belli Belli Dai Vabbè c'è sta Alex Del Piero No non mi piace Alex Del Piero Quindi Hazard Oh qua l'allenatore Uomini maturi Dai regà Guarda Pumpito Guarda Pumpito Ma che Io mi direi scherdigna Allora guarda per la serietà In questa foto Comunque secondo me c'è il suo fascino Da giovane Direi Puel Il signor Puel C'è Però ragazzi Allora voglio Lo bombi e lo passi Con gente figa 50 mila mi piace Lo bombi e lo passi Li scegliete voi Un po' piquet Un po' Ronaldo Icardi me l'hai levato Ringrazio mia moglie Ambra per essere stata In mia compagnia Ciao Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao